Ciao a tutti! Allora, Morfeus Materassi, via, fratelli, benci venga, Mondragone. Allora, oggi vi parlo di un episodio che ci è accaduto qualche giorno fa. Un aneddoto. Arrivano in negozio, dopo che ci avevano chiamato e ci avevano chieste delle informazioni in maniera, diciamo così, abbastanza anonima, dei signori di Scauri, una coppia di Scauri. Insomma, sono venuti, dopo averci, tra virgolette, interrogato telefonicamente, sono venuti in negozio e ci hanno espresso un'esigenza ben precisa. O meglio, appena arrivati, gli abbiamo chiesto quale fosse il loro bisogno, la loro necessità, insomma, di cosa avessero bisogno nello specifico. E ci hanno detto che necessitavano di un materasso, insomma, dovevano prendere un materasso per il loro bimbo di tre anni e che gli avevano consigliato, non so chi, non ho capito bene se un ortopedico oppure un collega, gli avevano suggerito consigliato un materasso con memori e molle insacchettate. Però l'altezza dello stesso doveva essere di 20 centimetri, non più alta. Non più alto, ma in realtà questo tipo di materasso, con queste caratteristiche, non è facile trovarlo in giro. E loro ci hanno detto proprio questo, insomma, di aver avuto questo tipo di difficoltà. Noi, siccome lavoriamo, oltre che con Simmons e con il benessere, insomma, anche con un'altra azienda che ci fa un prodotto artigianale, personalizzato, su misura, abbiamo chiamato in azienda e abbiamo avuto una risposta positiva, nel senso che potevamo dargli quel tipo di prodotto con quelle caratteristiche e con quelle misure. A quel punto poi sono intervenuto ulteriormente, nel senso che gli ho suggerito anche un'alternativa. li ho messi davanti ad una doppia opzione. O quel tipo di materasso cui avevano fatto riferimento loro, oppure un'alternativa che ho io stesso a casa per i miei figli. Quindi un materasso sempre con quell'altezza, ma con delle caratteristiche diverse, altrettanto di buona qualità. E alla fine siamo riusciti ad individuare la soluzione più corretta, più giusta per il bimbo. Bene, la sorpresa più bella è stata dopo, perché intanto ci siamo confrontati, ci siamo aperti, loro si sono aperti, insomma ci hanno detto che venivano da scauri e che erano arrivati da noi attraverso un nostro cliente, insomma un signore che conosciamo da tanti anni, una famiglia che conosciamo da tanti anni e che hanno sempre acquistato da noi negli anni e che gli avevano, insomma questi signori gli avevano parlato bene di noi, gli avevano detto in pratica che siamo un'azienda che lavora in un certo modo, ora non voglio autocelebrarmi, che lavoriamo insomma in un certo modo e che siamo puntuali, precisi e consigliamo sempre il prodotto più corretto, insomma la soluzione più adeguata. Bene, questo naturalmente ci ha fatto molto piacere e quindi io colgo l'occasione per ringraziare il nostro cliente e naturalmente anche i signori che sono venuti da scauri. E inoltre vi invito, qualora voi aveste bisogno di un prodotto specifico, di un prodotto su misura, di un prodotto personalizzato, vi invito a venire nel nostro negozio specializzato, mi ripeto, in via Fratelli Bencivenga35 a Mondragone, perché sicuramente abbiamo la soluzione alle vostre esigenze. Bene, con questo è tutto, io vi saluto, vi ringrazio e alla prossima. Ciao!